buonasera dall'atelier gentleman massimiliano che vi parla dunque questa sera sono qui per presentarvi uno degli ultimi abiti arrivati qui nel nostro atelier una collezione 2019 sono già tanti in realtà gli abiti della prossima stagione disponibili qua in atelier pronti per una prova ma questo in particolare secondo me merita una menzione una menzione speciale come spesso amo dire gli abiti classici dell'uomo quelli della cerimonia perlomeno sono tre lo smoking il mezzo tight e il frac allora dello smoking ne parlo diciamo più che altro ne posto tanto diciamo è un abito che piace a me particolarmente a me personalmente ed è anche un abito molto richiesto anche i ragazzi apprezzano questo questo abito e ne abbiamo anche già parlato in un precedente video in diversi post sul demi tight faremo anche un mini clip e poi c'è questo terzo abito appunto che è il frac che probabilmente non è molto valorizzato non è molto richiesto forse perché ci si immagina di indossare un frac quando c'è un una cerimonia molto molto importante quasi quasi solenne oppure si immagina un pianista che che ne so che va a suonare un pianoforte con le con le code lunghe ma francamente nulla di di tutto questo dico così perché giustamente gli stilisti prendendo spunto da quelle che sono poi le linee degli abiti tradizionali degli uomini vanno a ridisegnare in una chiave più moderna e ci propongono degli articoli rivisti e corretti secondo me sono molto belli appunto quello che io voglio presentarvi stasera è un frac di carlo pignatelli una linea sposo 2019 appena arrivato che francamente vale vale la pena visionare e eventualmente anche provare cioè prendere in considerazione se siete uno sposo prossimo diciamo della prossima del prossimo anno invito a prenderlo in considerazione perché è un abito davvero molto bello la rivisitazione moderna di un abito che comunque resta un abito molto regale è un abito molto importante francamente è un bellissimo compromesso adesso provo a switchare questo benedetto telefono eccolo qua il nostro frac carlo pignatelli collezione 2019 un abito dall'aspetto molto regale ecco qua come possiamo vedere cerco di fare un piano intero è un abito che si presenta in nero come come da tradizione è una giacca la giacca che facilmente identificabile dal taglio netto che abbiamo in vita e due punte divergenti la stessa giacca viene tenuta accostata da due bottoni baciati eccole qua framezzati da una cordicella da una catenella ma ci sono anche degli aspetti tecnici che mi piace sottolineare il primo fra tutti sicuramente a parte quella scerancatura della giacca stessa che già tende a delineare il fisico del ragazzo ma questa cucitura non so quanto sarà chiara nella ripresa perché nera comunque questa cucitura che salendo dal basso e andando verso l'alto si apre verso le braccia questa è una cucitura che è chiamata giglio serve per esaltare un po la fisicità del ragazzo soprattutto chi ha spalle larghe questo ragazzo in un'altezza media medio alta con delle spalle larghe francamente sarebbe molto molto bene tant'è che la stessa identica cucitura la andiamo a vedere anche qua proprio dietro le spalle però ci arriviamo altro aspetto è il reverse quindi questo piping che corre lungo il reverse della giacca con il collo a lancia fatto dello stesso tessuto ma che crea una sorta di contrasto quindi già questa cosa qui lo rende più moderno il tessuto non è proprio lucido ma non è neanche quel colore opaco che appunto lo renderebbe un abito di tempi andati quindi molto bello aprendo la giacca possiamo scorgere i particolari del degli accessori della parte interna quindi della gravatta e del gilet che in questo caso sono un crema molto chiaro quasi sembra quasi un panna gilet a doppio petto molto molto elegante con dei bottoni gioiello e bottoni gioiello ecco li qua bottoni impreziositi dalle pietre e cravattone dello stesso identico tenore e quindi colore e tessuto del gilet il tutto per un risultato davvero molto 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 elegante davvero molto molto bello osserviamo ora il retro dell'abito la classica coda lunga del frac ma non potrebbe essere diversamente e mi piace osservare questo questa sovrapposizione del tessuto che va a creare quasi lo stesso disegno che abbiamo nella parte frontale proprio dove c'è il taglio del frac queste due punte che sembrano quasi essere speculari anche se divergenti il taglio a giglio di cui abbiamo appena parlato eccolo qua che servono appunto per esaltare la fisicità del ragazzo per allargare le spalle e laddove il ragazzo abbia delle spalle effettivamente larghe il risultato sarebbe veramente eccezionale dunque per questa sera è tutto tenterò di inviare ulteriori pillole circa le novità del 2019 sugli abiti in arrivo ma anche abiti già disponibili magari cose particolari cose che che balzino agli occhi anche perché qui in atelier gli abiti sono veramente tanti partiamo da una linea piuttosto basica per arrivare a cose molto più estreme pertanto vi invitiamo comunque a prendere un appuntamento qui con noi nel nostro atelier cerchiamo di seguire i clienti soltanto con un appuntamento proprio perché non trattandosi di un un negozio che vende jeans che si entra si esce in dieci minuti l'abito da cerimonia è necessita di una particolare attenzione una particolare cura nella scelta e io sarò a vostra disposizione e per questa sera vi saluto a presto e allora e e e Grazie a tutti